Dopo l'armistizio dovuto all'emergenza sanitaria, i politici tetini sono pronti a darsi battaglia in vista delle prossime elezioni amministrative, che dovrebbero svolgersi nella seconda metà di settembre. Questa è la settimana delle trattative e degli accordi, al termine della quale le formazioni politiche potrebbero designare definitivamente i propri candidati. L'unico nome certo al momento sembra quello di Fabrizio Di Stefano, annunciato ormai già sette mesi fa, ma che non ha ancora reso pubblico il suo programma. Di Stefano è candidato sindaco della Lega, sostenuto anche da Fratelli d'Italia, Udc e due liste civiche. La scorsa settimana, infatti, lo stesso Mattio Salvini all'Aquila aveva dichiarato che il carroccio non è più disposto a fare passi indietro a vantaggio degli alleati. Ma Forza Italia potrebbe non essere d'accordo. Dopo le frizioni in seno alla maggioranza, che hanno portato Di Primio ad abbandonare il partito di Berlusconi per aderire a quello della Meloni, i forzisti sarebbero vicini all'accordo con Italia Viva di Alessandro Marzoli, così da formare un'ampia area centrista. I Renziani, infatti, non gradiscono il piddino Luigi Febo, già candidato sconfitto nel 2015, il quale non avrebbe dalla sua gran parte del centrosinistra. Il Partito Democratico e Italia Viva potrebbero così riconciliarsi su un candidato esterno, ovvero Bruno Di Iorio, medico ed ex presidente onorario del Chieti, che probabilmente avrebbe il clamoroso sostegno anche di Forza Italia, in barba alle strategie nazionali. Intanto dialogo aperto anche tra lo stesso Di Iorio e Paolo De Cesare, componente del CDA del Maruccino ed espressione della classe imprenditoriale Teatina, a sostegno del quale ci sono cinque liste civiche. I due si sono già incontrati e De Cesare potrebbe ritirare la sua candidatura a vantaggio di Di Iorio, presumibilmente in cambio della poltrona di vicesindaco. Insomma, potrebbe presto vedere la luce un eccezionale quanto vasto fronte comune contro Di Stefano, che comprenderebbe PD, Tagliaviva, Forza Italia e le liste civiche di De Cesare, tutti uniti contro Di Stefano per un ampio fronte centrista, nel comune abruzzese che, a parte la parentesi di Francesco Ricci, negli ultimi 30 anni è stato governato esclusivamente dalla destra. La Lega però continua a puntare su un centrodestra unito, che comprende anche i berlusconiani, e la decisione definitiva potrebbe essere imposta da Roma. Il Movimento 5 Stelle, invece, punta tutto su Luca Micone, il primo dei non eletti cinque anni fa. I pentastellati non si sono ancora espressi su eventuali alleanze, ma ci si aspetta che seguano le direttive nazionali accordandosi esclusivamente con eventuali liste civiche, non rinnovando nelle elezioni territoriali l'accordo di Roma con il centrosinistra. Insomma, l'unica cosa che al momento sembra certa è che il prossimo sindaco di Chieti non sarà una donna. A poco più di tre mesi dalle urne rimane poco tempo per concludere giochi, poi si preannuncia una campagna elettorale estiva particolare, con le limitazioni per il virus e i candidati che dovranno andare a bussare anche alle case al mare per procacciarsi i voti dei Chietini.